Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Dopo il video che ha suscitato anche qualche critica al video dell'arena, cioè un confronto molto 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 superficiale tra Black Desert Online e ArcheAge, ho deciso di portarvi ArcheAge perché come vi ho detto l'ho comprato e dopo dieci giorni sono oltre 50 ore di gioco. In realtà ci sono stati diversi tempi morti o magari qualche ora passata con il launcher aperto che viene calcolato comunque come tempo di gioco, quindi vabbè. Però che cosa cosa ho da dire di questo gioco? Mi ha preso come mi aveva preso tempo fa, ma in realtà questa versione diciamo nuova, la Unchained, mi ha confortato sul fatto che tutto quello che c'è di acquistabile con crediti e soldi di gioco sono tutte cose, vedete, cliccando qua, si comprano 1500 di questi crediti con 1,50 euro, scusate, con 9,99 euro e 1500, ecco. Ma sono tutte cose cosmetiche, quindi è effettivamente un non un pay to win in pratica, poi io ho definito pay to win Black Desert, se ho offeso qualcuno che poi tra l'altro mi ha anche velatamente invitato a farmi i fatti miei, mi scuso. Vi voglio un pochino parlare di questo gioco, perché? Perché mi sono gildato, adesso io non farò, non voglio mettere in mezzo gilda e così, cioè voglio, anche per avversi loro, mi hanno portato a fare delle attività ed è un gioco estremamente enorme. Ora io vi faccio vedere quello che io sto facendo ora, c'è sempre qualcosa da fare e soprattutto dovete mettervi in testa una cosa prima di iniziare un gioco del genere o se vi state domandando può piacermi, dovete mettervi in mente una cosa, non potete fare tutto subito, non potete fare tutto comunque, perché anche le abilità che potete vedere qua dalla coltivazione, la pesca, tutto quello che è, ne potete prendere al massimo, a livello massimo di raccolta 2, di crafting 3 e le speciali 2 soltanto, quindi insomma dovete fare anche una scelta. Vi dicevo che ha un sacco di cose, perché io adesso qua sto coltivando, sto coltivando perché mi sono messo in mente di provare una cosa, che poi ci pesterò il naso, magari sbagliata, non è ereditizza, però in pratica coltivando i narcisi e le azalee potete craftare un prodotto, adesso ve lo faccio vedere, da poter vendere. Questi invece mi hanno dato una quest e praticamente ogni 9 ore producono dei materiali, diciamo un contenitore di alcuni materiali. Per aprirli devo spendere un sacco di labor point, quindi ne accumulerò un po', però se vedete qua, io ho questi oggetti qua, vedete i fiori secchi, quando io ogni 10 di azalee, ogni 10 narcisi produco tipo 4 di fiori secchi che valgono un pochino da vendere, no? Qua, aprendolo, ne trovo dentro magari un centinaio, però spendo 400 labor point, vedete io ne ho circa 3.000 su 5.000 massimi, ieri li ho spesi tutti giocando, si spendono i labor point, i labor point si rigenerano solo con delle scroll che si trovano in gioco, si acquistano in gioco, non ha soldi, oppure aspettando semplicemente. Ora, mi è arrivata una mail, adesso vediamo, perché ogni tanto il gioco mi manda queste cose, mi ha mandato questo che dovrebbe darmi degli oggetti, adesso metto a posto tutto l'inventario in modo che mi esca tutto in fondo, almeno così vediamo un pochino cosa è arrivato, perché non sono quello che è esperto, o interessante, abbiamo preso delle pozioni che ci potenziano l'esperienza, delle cose che comunque hanno, queste qui hanno tutta una scadenza di 23 ore, insomma una giornata, però ho preso anche i Gilda Star che sono una valuta, una delle tante valute del gioco, quando ne avrò 300 mi comprerò una casa mineraria che piazzerò, perché vedete adesso ho solo il campo e una volta che l'avrò piazzata quella casa, casa mineraria, produrrà della roccia ogni giorno, vi faccio vedere giusto una cosa rapidissima e poi andiamo in giro. Vi farò vedere adesso anche qualche foto che ho fatto con la Gilda, perché la cosa è veramente incredibile, vedete adesso qua, scusate, mi faccio vedere, piazzo la casa, vedete potete piazzarla, orientarla e poi avete la vostra casa, dovete pagare le tasse, ad esempio le tasse è una cosa che dovete mettervi sul campo e premere F, no, dovete premere H e qua potete produrre le tasse, le tasse vi costano semplicemente labor point, tanti, quindi su tax certificate questo, vedete posso produrne 9, ne produco 5, 5 per 9 insomma, però vi costano 300 labor point, quindi io ne posso produrre quasi 10 perché ne ho quasi 3000 di punti, poi ne ho 0 e non posso più raccogliere nulla, coltivare nulla fino a quando aspetto un po' di tempo che mi ritorni in su. Me ne chiede 10 a settimana questo campo, ovviamente quando avete una casa, avete più case, più campi, vi costerà di più e quindi dovrete fare un, insomma, un, usarli con parsimonia, oppure, e questo ha senso, perché tanti dell'agile mi hanno detto io due account, tre account e non capivo perché, mi spaventava un po' la cosa, ma in effetti loro hanno un personaggio che sta fuori e fa solo i labor point, si mettono diciamo in gruppo insieme, in famiglia insieme e condividono, diciamo, queste tasse, quindi le paga un personaggio che fa solo quello anche perché il gioco, come vi dicevo, costa 25 euro, se lo trovate scontato ancora meglio grasso che cola, non pagate l'abbonamento, non c'è nessun tipo di abbonamento, quindi lasciate lì, producete quelle risorse. Tra l'altro, è una cosa importante, poi adesso andiamo, adesso andiamo via, cosa importante del gioco è che potete in pratica livellare anche senza combattere, ovvio, il gioco è finalizzato al combattimento, c'è un sistema di equipaggiamento veramente figo perché dovete potenziare ogni pezzo, dovete fare in modo che magari quel pezzo di equipaggiamento andando vi dia le abilità giuste, la caratteristica è giusta per il vostro personaggio, adesso tolgo la cintura, ad esempio, tolgo la cintura e te la posso mettere qui e posso dirgli di andare a tentare di togliere, però ho finito i tentativi, di togliere una di queste due che sono sbagliate, mi serve intelligenza per il mago, perché io sono un arcanista, quindi dovete potenziarlo, poi se non vi va bene usate un tool che acquistate, lo smontate e togliete tutto quello che avete usato per potenziarlo ne acquistate un altro perché all'inizio è consigliabile usare l'equipaggiamento base che vi dà il gioco, quello che acquistate dal vendor, uno dei pochi giochi dove comprate quello e lo potenziate man mano, poi adesso è a quarantesimo livello l'ultimo potenziamento, credo poi verso il 50 ci sarà un altro potenziamento, i livelli sono 55 ma in realtà poi ci sono altrettanti livelli ancestrali, quindi si va avanti come tutti i giochi coreani, c'è tantissimo da livellare, ma lo potete fare anche per dire produco ogni 5 tasse, quindi ogni 300 labor point faccio circa l'8%, quindi se producessi 10 tasse, come vi dicevo, o 9, sarei praticamente già a un terzo del 45esimo, verso il 46esimo, insomma livellerei, anche craftando lo fate, anche aprendo casse, insomma fate varie cose. Ora apro il mio libro del teletrasporto e andiamo qua, è figo un po' all'ultimo online, usate delle pietre che acquistate dal vendor o che producete voi, insomma e andate in un luogo diverso, ogni volta che visitate un centro vi si aggiunge, poi potete anche aggiungere la casa dei vostri amici, la casa di Gilda, insomma e cose varie. Adesso vi faccio vedere, nel mentre sta caricando, guardate qua, qua avete le due navi con cui siamo andati ieri, pensate che io ieri avevo passato la giornata intera a coltivare, insomma a far cazzeggiare, un po' a fare le mie cose, il mio crafting, e la sera mi hanno invitato a fare questo evento, per cui io non potevo fare nulla perché non avevo abbastanza punti, però pensate abbiamo trovato dei relitti sott'acqua e uno dei nostri gildani che aveva l'abilità di exploration molto alta è stato in grado di, vabbè prima di tutto sono andati sott'acqua con un sottomarino, hanno attaccato delle sacche d'aria, hanno fatto affiorare il relitto e lui che aveva questa abilità di exploration è riuscito a portare via delle casse per cui abbiamo guadagnato parecchi oro, e questa è una cosa, poi ci sono le navi in cui si viaggia, i velieri, i galeoni, hanno diventato un motoscafo completamente di legno molto figo, un po' steampunk, ora vi faccio vedere anche questo che ho fatto perché qua potete trasportare la roba, andate magari ad esempio qui dove io ero prima a Liliut, eravamo qua, il campo era qua, si va qui, si produce una risorsa, per cui servono anche le azalee che sto coltivando, poi si viaggia a Dewstone Plain, si traversa tutta Mariannopol che è la città principale, si giunge poi a Two Crown dove siamo ora, si fa tutto questo percorso qui, si arriva qui, si consegna e dopo 8 ore ci consegnano loro, si guadagna circa 13 d'oro ma con il carretto che vi faccio vedere subito, guardate che bello, col carretto posso trasportarne due, il carretto è upgradabile fino a 8 mi pare, vabbè viaggiate insomma e basta, allora lo tolgo, lo porto via, ho anche una barca e poi vabbè ovviamente il glider ovviamente perché sono qui, perché, vabbè qua guardate case di altre persone che si sono fatte la casa qui, niente perché sono qui, perché in pratica voi potete anche fare una missione di trasporto, è una cosa che mi ha sorpreso molto, potete fare una missione di trasporto che andando qui, potete acquistare, no non qui scusate, qua, il seller, ci vende questo cargo, non lo produciamo noi ma lo compriamo 26 gold, 26 gold va e dobbiamo portarlo nell'altro continente, ora vi direte, a me fino ad ora mi ha trasportato sempre la gilda ma se non volete dipendere da qualcuno, insomma anch'io non voglio la gilda impegnata, sta facendo le sue cose giustamente, dovete raggiungere qua, attraversare tutto il continente, e arrivare qui, c'è una nave che arriva e c'è anche un sito dove vedere l'ora in cui arriva, in pratica fa un viaggio l'ora più o meno, da quello che ho visto, voi prendete il carico, ve lo caricate sulle spalle, la nave arriva, salite e andate via e vi porta di là, inoltre potete anche decidere di andare da questo tizio qui, questo qui, acquistare è questo, che è la protezione a 5 gold, quindi in totale spendete 31, 5 gold e praticamente il capitano vi protegge, siete da quello che ho capito completamente protetti in caso di attacchi di pirati, adesso vedete sta arrivando un motoscafo e qua arrivano anche gente delle altre fazioni, cioè dell'altro continente, noi siamo alfi umani qua, gli altri di là, gli arani di là, vedete quello clip, qua arriva la nave, vedete che intanto questi che sono scesi, ovviamente vedete stanno trasportando tutti delle merci, quindi qua ovviamente siamo protetti, quindi vabbè, non ci possono fare nulla, abbiamo il cuoricino intorno, vedete non ci possono fare nulla, stanno intanto disevocando, a breve arriverà la nave grossa, attaccheremo se non è già arrivata, ma mi pare che arrivi qui, e in pratica consegneremo, cioè saliremo e andremo sull'altra sponda, un altro continente insomma, che dire a proposito delle classi, le classi sono molto interessanti perché le potete cambiare in qualsiasi momento parlando con un chierico in pratica, e quindi andate a modificarvi la vostra classe, scegliendo tra diverse cose, vedete che ogni, ce ne sono tre, potete scegliere una combinazione di queste, sono tutte uguali, ma in base alla combinazione che mettete avete una classe diversa qua in alto, e soprattutto potete spendere gli skill point ogni volta che livellate prendendo delle abilità, ovviamente su skill combos mi dice che se io lancio questo posso fare la combo con una, qualsiasi di queste qui, quindi, insomma, ce ne sono, è complesso perché poi voi avete scelto una classe e vi fate il vostro equipaggiamento, e l'equipaggiamento ovviamente, l'intelligenza, se io domani voglio fare il guerriero è un casino perché devo distruggere tutti i pezzi e rifarne altri, e ovviamente a livelli molto avanzati dovete pensare che magari state inseguendo degli oggetti che sono rarissimi, e che sono magari in che modo uso, o comunque sono adatte a quella classe lì, quindi dovete andare a rifarli. Non deve spaventare questa cosa, però dovete capire, anche se siete, come me, dei giocatori che guardano, ah, guarda che bello, è uscito quello, gioco quello, gioco quell'altro, gioco quell'altro, non è il gioco che fa per voi, infatti in questo momento io sto giocando solo a questo e poco altro perché porto avanti ovviamente i video per il canale, quindi non gioco ad altro, e mi sta prendendo, me lo gioco però tranquillo facendomi risalire i miei labor point, ogni tanto andando a salutare un pochino la gilda, andando con loro a fare qualcosa, ma ovviamente non posso fare nulla. La cosa bella è che nonostante, cioè, che magari, io ho giocato tanto anche World of Warcraft, World of Warcraft è quello alla fine, avete l'equip, avete le cose da fare, quest, 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 quest. Qua ci sono un sacco di cose, ci sono i vocation pages, che sono praticamente i punti che voi raggiate ogni volta che fate qualcosa che ha a che fare con la coltivazione o l'allevamento, e quello vi porta a uno store dove potete acquistare dei semi che non si trovano normalmente in vendita, quindi più coltivate, più guadagnate questi punti, più li spendete. Avete gli honor point, facendo, uccidendo da 30, 50, 100, 200 mostri in un'area nuova, o facendo missioni d'onore, guadagnate quei punti e andate qua, e li spendete per oggetti. Oppure la gilda, la gilda, avete delle missioni di gilda, ogni giorno potete fare una di queste tre, e guadagnate punti, diciamo, punti prestigio, che poi andate nel prestige shop e acquistate degli oggetti con i prestige shop. Ma è tutto all'interno del gioco, senza spendere un soldo, anche perché il gioco vi consente di prendere solo cose cosmetiche. Anzi, vi faccio vedere anche questo. Avete il marketplace, è ok, ma avete anche questo, il daily schedule. Praticamente avete l'archpass, l'avete sentito l'archpass? Io, ovviamente, tutto quello che vi sto dicendo me l'ho spiegato da gilda, per cui vi ringrazio, il gilda utopia. Allora, in pratica, qua potete andare a prendere, attivare, uno tra tre vocation pass, tra tre pass. E praticamente avete ogni settimana 12 quest che potete fare, è meglio farle, perché più le fate, in questo caso sintetizzare 20 pezzi dell'armatura, ne compro uno, mi metto a farle, poi li distruggo, recupero i materiali. Vabbè, fate queste missioni, salite di livello e man mano salite di tier e vi dà degli oggetti. molti, molto semplici, niente di che. Sono oggetti molto utili, mi hanno dato anche tanti soldi e tanti gilda star. Quello che vedete qua è il premium. Il premium costa, se lo volete fare, un mese, costa 9,90 euro, comprando il credit, insomma, i diamanti. Ma che cosa fa? Ogni volta che voi guadagnate un tier, vi dà delle cose in più che non sono indispensabili, tipo qua 50 pietre di teletrasporto, qua vi dà il ticket per colorare, qua alla fine vi dà un costume, quindi vedete che insomma, è tutto lì, nel senso è tutto cosa solo visiva. È arrivata la nave, eccola qua. La nave è arrivata e partirà tra circa 20 minuti. Quindi io adesso dovrò prepararmi prendendo il cargo, comprandolo, comprando anche la protezione del capitano e poi mi metterò sulla nave e partirà, infatti vedete che stanno scendendo anche tanti rossi. Io mi metto già lì e insomma vado. Non vi faccio vedere altro per il momento perché voglio farvi fare dopo, insomma, quello che in altri video, insomma. Se il gioco vi interessa e volete vedere magari una live o qualcosa, insomma. Ad esempio l'Arch Pass mi ha dato tanti punti che si chiamano, vi faccio vedere subito. Sono questi qua, quelli viola, questi qua. Non sapevo cosa fossero i Digents Coin. E poi grazie alla Gilda ho scoperto che potevo spenderli per comprare delle pergamene di espansione o espanso da 50 a 100. Questo, che è il mio warehouse, la mia diciamo banca, insomma la banca dove mettiamo tutto all'interno. E mi è stato comodissimo, infatti adesso anche questo, questo è un potenziamento. Devo combinarne 5 di questi, quindi vabbè. Ci sono tante cose che, tantissimi oggetti, tantissime cose da sapere. Il crafting, ecco, l'ultima cosa che vi dico è come è successo a me, mi sono scoraggiato perché comunque volete fare, ad esempio, a un certo punto, premendo O cercate tutto. Allora, lo store di star di ingot. Star di ingot è una cosa veramente complessa da fare perché potete prendere uno qualsiasi di questi. No, dovete fare lo store di ingot. Mi servono tutti questi ingot e questo materiale qua. Allora, qua scavate, mandate in giro, cercate. Ma questo, magari vi servono 200 Narcesi, 200 Azalè e non le avete. O le comprate all'asta, adesso andiamo a vedere. Questi qua invece no. Li trovate, costano un botto o sono quelli che io adesso vado a ottenere perché compro quel cargo, compro il capitano insomma la protezione spendo 31 gold prendo, vado, porto di là il cargo e tra 8, quando lo consegno tra 8 ore mi consegnano 15, 14 di questo. Quindi vedete che è una cosa che comunque dovete fare continuamente. Però mi dà proprio l'impressione questo gioco di avere sempre qualcosa comunque da fare. Voglio dire, Warcraft, mi sono accorto che World of Warcraft dopo un po' non avevo più skill da prendere non mi cambiava più gameplay e dopo non lo so qua, bene o male mi sono fatto il carretto va bene ma non è finita ho visto la marea di mezzi che si possono avere addirittura un drago non volano però riescono a stare in aria praticamente un tempo illimitato perché scendono dopo un po' possono essere riportati su e quindi non finisce mai ho visto le macchine a vapore insomma è tutto molto molto figo io spero di avervi preso di avervi suscitato un pochino di interesse in tutto questo ora sono le 10.11 alle 10.28 partirà la nave ci metterà circa una decina di minuti ad arrivare di là io intanto vado lo provo tanto non l'ho mai fatto dire la verità quindi magari lo faremo per un altro episodio per intanto io compro quello compro questo questo dice che devo usarlo mostrare al capitano della ship per 40 minuti se è protetto ma non sono protetti i personaggi ricercati ok qua andiamo allora andiamo di là andiamo a portare tutto sulla nave e poi mostriamo 40 minuti di protezione al capitano partirà tra poco la nave io veramente ci ho navigato con la mia gelda è veramente figo avevamo una nave cargo quindi non era una nave galeone tipo questa ma una nave cargo quindi aveva tantissimi spazi dovevo trasportare questi questi carichi qui per non tenerseli sulle spalle è veramente una figata perché poi le navi le potete le potete potenziare mettergli cannoni mettergli addirittura sentivo che parlavano di peso di timone insomma di cose varie che cambiava proprio la maneggevolezza credo la guidabilità mi scusi signor capitano ok applico la protezione al capitano boom ok sono salvo per 40 minuti quindi praticamente inside the cargo ship nessuno può attaccarti e essere attaccato perfetto 40 minuti ora aspetto e vedremo poi la prossima volta chi è questa qua direttamente dal quinto elemento ah si siede mi siedo anch'io allora buongiorno è verde quindi vedete che è della nostra fazione bene ragazzi qua si conclude l'episodio su Archeage non c'entra molto col gindy a dire la verità ma è sempre allo scopo di divulgazione insomma farvi conoscere qualcosa di nuovo ora se vi interesserà ho vinto anche un gil da star non so quando ah me l'ha dato adesso ma probabilmente per la protezione va bene ottimo mi niente fatemi sapere cosa ne pensate ed eventualmente io adesso già preparerò il video prossimamente che vi mostrerò del viaggio e la consegna diciamo di questa risorsa qua alla prossima e ciao 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 Grazie a tutti.